vi starete chiedendo che cos'è questo video e perché è uscito il martedì allora ragazzi c'è un motivo ben preciso ho pensato, cioè noi facciamo tre video a settimana da due anni, ok? da sempre tre video a settimana ora che c'è lo studio si può fare anche un po' di più quindi ho detto bisogna trovare un format che sia facilmente replicabile, ok? si possono fare tantissime puntate e che può uscire periodicamente difatti abbiamo inventato, in realtà non è che l'ho inventato io ma è un nuovo format che uscirà ogni martedì utilizzo questo video perché parliamo di un frutto speciale oggi anche per spiegarvi come funzionerà questo format semplicemente in questo format qui andremo a prendere ogni singolo frutto del diavolo dell'opera e andremo a sviscerare tutte le informazioni che abbiamo e quello che potremmo vedere in futuro, ok? come mi è arrivata questa idea? intanto è partita principalmente dal video in cui parlo di tutti i frutti del diavolo è partita da quello poi ho visto che in realtà esiste uno youtuber straniero ora non mi ricordo neanche il nome che ha fatto un format molto simile che secondo me poteva funzionare in Italia esiste anche un ragazzo che conosco che fa video simili si chiama LaboFaze quindi ragazzi andate a supportare anche lui perché ha un canale anche lui direi che però questo format qui comunque può aiutare questo canale a fare come dire un contenuto in più un contenuto easy che può durare anche 5 minuti a video perché ci sono dei frutti di cui non c'è niente da dire in realtà quindi ragazzi iniziamo parlando del Gomu Gomu no Mi no parliamo del Lito Ito no Mi modello Dio del Sole Nika questo è il primissimo frutto che vediamo in assoluto in One Piece ed è per questo che ho voluto parlarne ve lo dico già il format funzionerà così parleremo una volta di un Paramisha una volta di un Roja una volta di uno Zoan volevo iniziare col primo frutto in assoluto ovvero con quello di Luffy che in realtà è uno Zoan quindi il prossimo episodio sarà o un Paramisha o un Roja ancora devo decidere che cos'è questo frutto? questo è uno dei frutti più potenti in assoluto da quello che ci dicono i Gorosei questo è il potere più ridicolo che sia mai esistito da quello che ci è stato detto almeno all'inizio questo potere qui non è uno Zoan ma è un frutto Paramisha della gomma perché le primissime abilità che vediamo per quanto riguarda Luffy sono appunto queste il fatto che Luffy si trasforma di fatto in un uomo di gomma da qui tra l'altro anche il nome Rabber che viene utilizzato solo nella traduzione in italiana almeno nell'anime ovviamente parliamo di un frutto incredibile in realtà da quello che abbiamo visto pre-risveglio quindi pre-Onigashima questo è un frutto ridicolo nel senso che fa ridere rispetto agli altri frutti del diavolo che vediamo all'interno dell'opera questo è un frutto semplicissimo semplicemente il corpo dell'utilizzatore è fatto di gomma ovviamente stiamo parlando di Luffy stiamo parlando di un personaggio che intanto è il protagonista ok? e poi ha un grandissimo cui da combattimento mettiamola così di fatti la cosa incredibilmente interessante di questo frutto sono i gear che sono delle trasformazioni che non dipendono tanto dalla natura del frutto perché non è una trasformazione tipo il Monster Point di Chopper ma è una trasformazione che deriva proprio dall'ingegno del suo utilizzatore abbiamo il gear second abbiamo il gear third il gear fourth e il gear fifth che in realtà sarebbe il risveglio ok? parlando di questi gear andiamo a parlare di tutte le abilità che abbiamo visto di questo frutto alla fine per esempio il gear second che è il primo gear che vediamo in assoluto vediamo Luffy pompare aria all'interno del suo sangue facendo così Luffy praticamente ha una circolazione che aumenta a dismisura e diventa velocissimo diventa velocissimo lui diventano velocissimi anche i suoi colpi ok ragazzi? abbiamo poi il gear third che è un'abilità che vediamo subito dopo il gear second quindi sono due abilità alla fine completamente diverse una all'opposto dell'altra di fatto nel gear third Luffy non dà aria nel suo sangue ma dà aria nelle sue ossa facendo così Luffy aumenta a dismisura le sue ossa facendo diventare gli suoi arti in particolare i pugni perché ovviamente Luffy colpisce coi pugni degli arti giganti ok? ovviamente è una delle tecniche più famose di Luffy in assoluto comunque questo è il gear third andando avanti vedendo poi dopo il time skip intanto possiamo dire che questo frutto come vi ho detto almeno pre rivelazione è molto semplice cioè funziona con la forza elastica e di fatto anche senza contare i gear tutti i combattimenti di Luffy erano risolti come se fosse di fatto un elastico che si prolungava fino a un certo punto e poi veniva sparato contro l'avversario tutti i colpi erano fatti in questo modo il singolo pugno gommu gommu uno pistol o il bazooka che di fatto erano la stessa cosa semplicemente si usavano più braccia poi in realtà è versatile perché l'utilizzatore è un utilizzatore intelligente almeno sotto quel punto di vista lì come ho detto andando avanti dopo il time skip abbiamo l'introduzione del nuovo gear che è il gear fort ovviamente abbiamo parlato dell'aria nel sangue aria nelle ossa qua stiamo parlando di aria nei muscoli mettendo l'aria nei muscoli Luffy semplicemente diventa praticamente un pallone gonfiabile che può utilizzare questi muscoli che sono aumentati anche per sferrare dei colpi potentissimi il gear fort tra l'altro è di fatto una forma che ha tre forme diverse abbiamo visto il bound man il tank man e lo snake man ok sono tre forme diverse dello stesso gear semplicemente in un aumenta la difesa in un aumenta la velocità e poi c'è il bound man che credo sia quella standard ok quella in cui si trasforma più volte luffy ovviamente in più questo frutto comunque è molto particolare perché è uno zoan ma di fatto non abbiamo ben capito la sua forma completa la sua forma ibrida sappiamo che c'è una forma risvegliata che è appunto il gear fifth ok parliamo prima del gear fifth poi di tutte le forme completa ibrida ne parliamo magari dopo ok ragazzi il gear fifth è il risveglio di luffy cioè questo risveglio qui è la sua vera e propria trasformazione non sappiamo se come gli altri gear serva un po' d'aria da qualche parte tipo alcuni avevano ipotizzato visto che nel gear second si dà aria nel sangue nel gear third nelle ossa e nel gear fourth nei muscoli quello che potrebbe essere effettivamente la parte del corpo ok che aumenta in luffy quando si trasforma nel gear fifth potrebbe essere l'anima ok è un po' difficile ovviamente come cosa però ci potrebbe anche stare comunque sia nel gear fifth luffy praticamente diventa questa figura il dio del sole nika che è un dio di cui non abbiamo moltissime informazioni sappiamo che è il dio praticamente del sole ok e poi anche un po' un dio assurdo nel senso che proprio tutto quello che fa lo fa per far ridere le sue abilità intanto sono quelle basilare di tutti i gear però sommate insieme e senza tra l'altro moltissima fatica ha delle abilità simili al risveglio di un frutto paramiscia quindi in poche parole può utilizzare questa forza elastica anche sul terreno circostante ed è fortissimo ok è fortissimo la trasformazione poi è una trasformazione particolare perché cambia i vestiti luffy li fa diventare completamente bianchi anche i suoi capelli diventano delle specie di fiammelle delle specie di gas io credo che rappresenti più che altro il gas e di fatto questo è la cosa veramente figa del gear fifth è la completa libertà dell'utilizzatore ok magari negli altri gear aveva dei paletti che ovviamente dipendevano dal suo corpo nel gear fifth si ha la completa libertà nell'utilizzo del corpo ok cioè veramente completa diventa un gigante luffy grazie a questa trasformazione se vuole capite cioè quindi stiamo parlando di una roba del genere ovviamente qua ci sono un sacco di teorie che potremmo fare visto che questo canale va avanti anche grazie alle teorie vi posso dire che secondo me il vedere il gas intorno a luffy in continuazione intanto è una citazione diciamo riprende un po' così la cosa che è il dio del sole il sole è di fatto un corpo gassoso e quindi questo gas che vediamo sempre intorno a luffy gli serve per aumentare le sue dimensioni perché alla fine stiamo parlando di abilità assurde ma di fatto luffy continua ad aumentare le dimensioni le diminuisce cambia la forma in qualche modo quindi è come se luffy utilizzasse tutti i gear insieme con un gas illimitato questo ovviamente però è una teoria quindi tenetela con le pinze quando parliamo poi di questo frutto come ho detto non abbiamo una forma abilità una forma completa una forma umana ok vabbè la forma umana è quella di luffy normale ma la forma completa è quella che vediamo nel gear fifth quando kaido vede il gear fifth dice che quello è il risveglio da quello che abbiamo visto almeno per quanto riguarda il frutto di luci per esempio la forma risvegliata negli zoan è una forma diversa dalla forma ibrida però è una forma simile alla forma ibrida ma un pochino diversa ok potremmo dire che quella che ha luffy è la forma ibrida slash completa perché comunque questo frutto è un frutto particolare a prescindere da quello che sapevamo prima e da quello che sappiamo adesso perché è un ito ito no mi ito ito sta per omo omo quindi in poche parole è il frutto di un uomo che poi in realtà ovviamente rappresenta un dio però di fatto ci sono tre ito ito che almeno abbiamo visto canonicamente all'interno dell'opera ito ito no mi modello dio del sole e nike che è quello di cui stiamo parlando ito ito no mi base ok quindi che ti trasforma in umano ma ci sono da chopper ma non ci può aiutare proprio perché chopper è una renna e non è un umano e poi abbiamo ito ito no mi modello buddha ok che è quello che ha mangiato sengoku se prendiamo per esempio questo anche lì non abbiamo esattamente una forma ibrida ok potremmo dire che essendo che comunque luffy è un umano quindi un omo omo potremmo dire non può avere una forma ibrida perché di fatto la sua forma ibrida è anche una forma completa potremmo dire una roba del genere quando si mangia un frutto che corrisponde alla tua specie o almeno una forma la dai via ovviamente poi c'è la forma completa che da quello che vediamo sembra essere la forma risvegliata che ovviamente è un qualcosa di assurdo ok ragazzi abbiamo i colpi del gomu gomu no mi ora non vi sto a elencare tutti i colpi semplicemente vi posso dire pre time skip tutti i colpi erano tipo gomu gomu no pistol gatling eccetera dopo il time skip in questi colpi di solito viene aggiunto una specie di prefisso che indica un animale questa cosa va a indicare l'allenamento che ha avuto luffy durante il time skip che di fatti era su un'isola piena di animali giganti quindi ci sta e come e poi abbiamo anche le nuove tecniche che sono le tecniche del gear fifth che hanno un nuovo prefisso il prefisso è down che sare vuol dire alba a volte in giapponese viene indicato come bianco ok ragazzi però io credo che sia meglio utilizzare down ovvero alba perché secondo me è un riferimento ovviamente all'alba che deve arrivare con l'arrivo di joy boy joy boy che a quanto pare aveva mangiato proprio questo frutto ci viene confermato da zunisha però comunque ragazzi il frutto è questo questo è il nuovo format ragazzi fatemi sapere con un bel commento se vi piace vi interessa vedere altri video è venuto anche più lungo del solito vorrei fare questi video tipo lunghi 5 minuti però ovviamente qua stiamo parlando di un frutto speciale quindi ci sta ok ragazzi detto questo grazie mille per aver visto questo video io sono Marla questo è Mera Mera noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti del genere se siete interessati a solo questo format sappiate che esce ogni martedì ok ragazzi mi raccomando fate i bravi ci vediamo ciao a tutti